oh ciao ti stavo aspettando quindi oggi vogliamo parlare di armi giusto e parliamo di armi posso spiegarti mille modi per lanciare questo coltello lo sai lui e tantissime altre lame forse sia un tipo che preferisce altro vero e allora ti propongo dell'altro arma ad aria compressa 4,5 mm questa è una water ppk molto divertente e compatta non sei interessato alle pistole e allora parliamo di fucili mettiamo a posto le pistole e passiamo alle carabine ad aria compressa diane f2 40 può avere distanze più lunghe molto divertente e rimane sempre un classico del tiro da campagna sei interessato ad altri accessori da poter utilizzare in campagna e allora andiamo totalmente su altro oggetto se interessato a cerbottane ti sembrerà strano ma una cerbottana può correre una distanza molto 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 lunga ha una gittata molto importante lo sai o ancora meglio se vogliamo allungare delle distanze balestre piccole o lunghe che siano l'hai vista quella di prima vero questa è il suo fratello più grande e fa molto più male ricoprendo distanze più lunghe non consideri queste vere e proprie armi e allora dobbiamo passare alle armi da fuoco passiamo allora una giornata in poligono una mattinata un pomeriggio vedrai fucili pistole ovviamente tutto quel che preferisci lo decidi tu scegli tu cosa guardare sei dove trovarmi questo è il mio mondo questa è la mia armeria e questo è il mio canale ci vediamo al prossimo video e spero che questo fantastico mondo vi piaccia ciao